A Ragusa si bisticcia a causa dell'intervento a favore del centro storico con la terza edizione del bando Io resto in centro che prevede un sostegno a fondo perduto di 8.000 euro a favore di quanti avviano o ampliano un'attività nel centro storico della città. Ed ecco le critiche da parte del comitato Ragusa al centro che non condivide la scelta di inserire nel bando l'intero centro storico anziché puntare su via Roma o comunque limitare il perimetro di intervento al fine di creare movida con una zona fortemente attrattiva. In poche parole l'errore commesso per il comitato è sempre lo stesso e porterà al medesimo risultato un fallimento o giù di lì con via Roma e dintorni che perdono sempre più in termini di interesse e attrazione per Ragusani e non solo. E proprio per questo chiedono che si intervenga in modo urgente e circoscritto. Ed ecco subito la risposta di Giovanna Licitra, vice sindaco, che fa presente che il bando è legato allo sviluppo economico. Quindi nasce con lo scopo di favorire la creazione di impresa e di puntare e dare ad una possibilità a giovani soprattutto che preferiscono investire altrove. E già basta questo a far capire che il perimetro urbano individuato dal bando diventa meno rilevante passando in secondo piano rispetto alla valorizzazione del centro. Ripartenza mai così cruciale, aggiunge ancora la Licitra, in questo momento storico segnato dalla pandemia e da interventi che quasi mai sono volti ai giovani e alle loro prospettive di crescita. Il bando, precisa ancora, è pensato anche per le start-up innovative e non solo per le imprese commerciali. Il sostegno, precisa poi il sindaco Peppe Cassì, può avere un valore massimo di 8.000 euro e comunque non può superare il 60% delle spese sostenute. Il sindaco poi precisa che nelle due precedenti edizioni sono state sostenute 11 attività economiche in totale e c'è tempo fino a dicembre per presentare istanza da parte degli interessati.